1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, spero davvero di non spaccarvi i timpani perché io ho un tono di voce molto molto alto e voglio fare delle premesse perché nei miei video ci sono sempre delle premesse. Sono molto emozionata perché è il mio primo podcast, so che creo contenuti sui social ma non l'ho mai fatto prima e la particolarità di questo podcast è che non ci saranno tagli. Quindi vedrete Ilaria proprio al 100% senza tagli, senza modifiche perché comunque lo sapete su TikTok, su Instagram potete fare video e potete modificare video. Quindi mi vedrete al 100% con interruzioni, roba che sicuramente sbaglierò e probabilmente Dylan entrerà nella stanza quindi preparatevi perché sarà Ilaria al 100%. Comunque, benvenuti, benvenuti in questo primissimo episodio del mio nuovo podcast Keeping Up With Yaya Rondi. Io sono la vostra host Ilaria Rondinelli e direi sì ma che lei ha fottuto a I Kardashian? No, cioè nel senso Sni, io e la mia manager Ludovica ci abbiamo pensato. Come lo chiamiamo questo podcast? In italiano negli Stati Uniti, troppo scontato, già utilizzato, però non voglio che si incentri soltanto su parlare degli Stati Uniti, quindi come lo chiamiamo questo podcast? Ludovica mi fa ma perché non lo chiami Keeping Up With Yaya Rondi? Perché comunque è un Keeping Up With You, no? Cioè sempre stare sempre aggiornati, sintonizzati con la tua vita e ho detto sai che ti dico figo, anche perché poi tutti i miei social lo sapete, Instagram, TikTok, io mi chiamo Yaya Rondi, non vi potete sbagliare, ovunque mi trovate così e quindi sì. Allora, io sono quindi la vostra host Ilaria Rondinelli. Ilaria Rondinelli, un fan fact, cominciamo subito con un fan fact riguardo il mio cognome. Allora, voi dovete sapere che io in Italia sono ancora Ilaria Rondinelli, perché questo è sempre stato il mio cognome, io sono sempre stata Ilaria Rondinelli. Poi cosa è successo? Io mi sono trasferita negli Stati Uniti, mi sono sposata con Dylan e qui diciamo è una cosa che fanno le famiglie americane per agevolare la vita familiare, vi spiego in poche parole. sicuramente avrete visto i film, i telefilm, c'è sempre la famiglia, per esempio The Simpsons, oppure The Rossi, o The Huey, per esempio. Cosa succede? Negli Stati Uniti non è una cosa obbligatoria, solitamente lo stanno facendo sempre meno donne, perché comunque in Italia, per esempio, mia mamma ha il cognome da nubile, mia mamma non ha mai preso il cognome di mio papà, però comunque lo sapete, quando magari c'è un gruppo, c'è qualcosa, ti chiamano per esempio la famiglia Rondinelli, che è inclusa anche mia madre e noi. Siccome comunque negli Stati Uniti aiuta, semplifica, visto che qui ci sono tantissime persone, soprattutto quando per esempio ho mandato i figli a scuola, c'è sempre la cosa di dire eh ma poi la signora Rondinelli, il signor Huey, quindi io poi anche perché sono felice, sono contenta, non vedevo l'ora, ho preso anche il cognome di mio marito, ho lasciato il mio cognome da nubile come middle name, perché io non ho mai avuto un secondo nome, quindi io mi chiamo Ilaria Rondinelli, Huey, qui negli Stati Uniti, ho preso il cognome di Dila. Il fun fact è che quando noi ci siamo sposati a giugno, lo sapete tutti, il 16 giugno, se mi seguite poi vi dirò anche un pochino sui miei canali, quindi chi non mi conosce può seguirmi anche sugli altri canali, e ci siamo sposati il 16 giugno e avevamo già fatto tutte le scartoffie, perché comunque dovete avere il certificato di nascita, con la postilla, 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 come si dice, insomma dovete avere una serie di documenti, e dovevamo andare a registrarci al comune, e io vi dovevo registrare perché io sono ancora nubile, sono ancora Ilaria Rondinelli, anche se in Italia non cambiate mai il cognome, in Italia io sarò sempre e solo Ilaria Rondinelli, però comunque dovevo mettere che ero sposata. Tutto pronto, tutto pronto, ovviamente Dilan è dovuto scappare e tornare negli Stati Uniti per lavoro, io praticamente gira che ti rigira, se mi seguite lo sapete, dopo un giorno anch'io stavo negli Stati Uniti, quindi non abbiamo avuto tempo di registrare il matrimonio in Italia. Quindi il fun fact è che io sono, ovviamente ragazzi, questo sarà un podcast, se mi seguite lo sapete, io parlo un botto, cioè io parlo di una cosa e poi ne parlo di altri cento, quindi abituatevi a questa cosa perché questi episodi saranno utili così. E quindi il fun fact è che io sono Ilaria Rondinelli in Italia e io sono single, e qui sono Ilaria Rondinelli Q e sono sposata, quindi sono due persone completamente diverse, cioè che se Dilan mi fa girare quei cosiddetti, io torno in Italia e mi sposo, tanto che io via non sape nessuno. No, ovviamente sto scherzando, non si può fare, penso sia una cosa legale. Però insomma questa è una cosa che mi fa ridere perché sono praticamente due persone in due mondi diversi, in due paesi diversi. La cosa a cui ho pensato moltissimo, ho detto come lo voglio chiamare questo podcast, cioè come il nome, il mio nome, mi presento come host Ilaria Rondinelli Q o mi presento come host Ilaria Rondinelli? Ci ho pensato, ho detto io in Italia sono Ilaria Rondinelli e starò sempre Ilaria Rondinelli, quindi ho detto il podcast è in italiano perché comunque le statistiche parlano, ragazzi voi siete praticamente 90% italiane nei miei profili Instagram e TikTok, siete praticamente tutte donne, perché anche su quello mi pare che siete 85% donne, e siete tutti italiani, cioè quindi il restante percentuale sono americani nel resto del mondo. Quindi ho detto come lo facciamo questo podcast in lingua italiana, come mi chiamo i host Ilaria Rondinelli, mi sembra una cosa più che logica. Ma passiamo a noi, passiamo a noi perché sennò io parlo troppo e lo sapete, costodito così. Allora, allora, ho pensato tanto, quale sarà la primissima puntata di questo podcast? Di cosa voglio parlarne nel mio primissimo episodio? Ci ho pensato, ci ho ripensato e ho detto perché non parlare di qualcosa di divertente ma allo stesso tempo di cui non ho mai parlato sui social. Cioè, ve ne ho parlato ma molto così alla qualunque. Le differenze tra gli uomini italiani e gli uomini americani. Raga, questo sarà un episodio fa ridere, già fa ridere così. Allora, molto velocemente, facciamo un'introduzione dell'uomo italiano, cioè che tipo di uomini italiani abbiamo? Allora, io ovviamente parlo per Roma perché io sono nata e cresciuta a Roma, quindi vi posso fare la lista degli uomini romani, diciamo, di quelli che puoi incontrare a Roma, ecco. Allora, cominciamo dal pariolino, che è detto anche figlio di papà. Sapete, quelli che comunque stanno bene economicamente, io vado alla lui, vado in discoteca, faccio le bocce, quella roba lì, i pariolini. Secondo, i bori, i rozzi, non lo so come li chiamate, i tamarri, quelli che li incontrate, io ve pio, te pio, te spacco, bella raga, me chiamo, ecco, so lillo, lui. Ehm, che a me assolutamente, no, non è proprio il mio tipo. Terzo tipo, il nerd, possiamo chiamare nerd? Quei ragazzi, sapete che a cui piace, sono molto intelligenti, non che gli altri non siano intelligenti, però sono molto molto intelligenti, piace il computer, sanno utilizzare tutta la tecnologia, beh, lo sapete chi è il nerd? Quei ragazzi molto molto intelligenti, intelligenti, che hanno altri interessi. E poi che abbiamo? Come quarto, diciamo che abbiamo anche noi palestrati in Italia, quelli belli pompati, vanno sempre in palestra, vado in palestra, e poi a mattina mi sveglio e vado in palestra, loro. Che so, so carucci, so carucci, so carucci, però non sono i miei tipi, non sono i miei tipi. Diciamo che il mio tipo in Italia è sempre stato il pariolo, fin da quando ero piccola. Ehm, i miei fidanzati sono tutti stati, il primissimo fidanzato, il secondo fidanzato, scusate, è stato un pariolino, proprio dei parioli. E poi dopo di lui c'è stato un altro ragazzo, non dei parioli, però sempre molto, sapete, Marche, eccetera, eccetera. Diciamo che questo si può, possiamo dire che questo è il mio tipo di ragazzo quando stavo in Italia, a Roma. Quindi diciamo che questi sono il genere maschile a Roma, ma passiamo invece al genere maschile negli Stati Uniti. Questo episodio si incentrerà su le mie disavventure nel mondo del dating americano. Quindi è già tutto un programma questa cosa, è già tutto un programma. Allora, cominciamo. Io vivo negli Stati Uniti, per chi non mi conosce, vivo negli Stati Uniti da praticamente quattro anni. Io ovviamente andando, tornando, adesso fissa, fissa, fissa dal 2020 praticamente, però ho fatto avanti e indietro un paio di volte Italia, America, perché comunque ho avuto una relazione a distanza con mio marito prima che ci sposassimo. insomma, poi vi racconterò meglio la storia, oppunque vi lascerò, vi ripeto, i social, così potete andarvi a vedere tutta la storia tra me e mio marito. Quindi prima di sposarmi, di trasferirmi definitivamente negli Stati Uniti, io ho fatto la ragazza alla pari. Mi sono trasferita negli Stati Uniti nel 2019 e ho fatto l'esperienza di au pair in America, nello stato di Washington. Quindi è stato un anno, io vabbè, sai, vado, sì, vado a fare un'esperienza di un anno, poi torno in Italia, che sono, torno, io mi sono lavorata nel 2018 in lingue, ho detto voglio imparare meglio l'inglese, vado a fare questa esperienza come ragazza alla pari, poi torno e trovo un lavoro in un'azienda, perché parlerò perfettamente inglese e niente, sono finita che mi sono sposata e sono rimasta qua, ma quella è un'altra storia. Poi ovviamente non vi preoccupate, perché vi farò anche un episodio podcast riguardo le ragazze alla pari, i ragazzi alla pari, perché ci sono anche i bro pair, quindi preparatevi, non vi preoccupate, vi farò un episodio anche su quello. Quindi, mi trasferisco nel 2019 negli Stati Uniti come ragazza alla pari, perfetto, tutto simpatico, all'inizio comunque io quando sono partita come ragazza alla pari ero fidanzata con un ragazzo di Roma, poi comunque ci sono stati alti e bassi, la distanza, eccetera, eccetera, ci siamo lasciati, ci siamo lasciati dopo qualche mese, che io ero già lì negli Stati Uniti, quindi all'inizio io, un paese nuovo, una lingua nuova, comunque vivevo, la casa dei miei host parents era molto molto lontana dal centro città, quindi comunque lì dovete prendere sempre la macchina, vuoi o non vuoi, ero comunque un pochino lontana da tutto e avevo un po' paura all'inizio, non mi era ancora insomma adattata alla situazione, abituata, adattata, vabbè, quindi vabbè, mi lascio e comincio ad uscire un pochino di più con le altre ragazze alla pari, erano ragazze, non avevo nessuna amica italiana nel gruppo per, c'erano ragazzi di tutte le nazionalità, colombiane, argentine, messicane, brasiliane, tedesca, insomma erano tutte di altre nazionalità, e uscivamo di qua di là e un giorno mi fanno perché non ti scarichi? Allora, negli Stati Uniti dovete sapere che le dating apps, cioè gli siti di incontri, non sono un tabù, perché per esempio io a Roma mai ho utilizzato una dating app, mai, perché l'ho sempre visto come da sfigati, non mi giudicate, però io penso che quello sia un pensiero comune in Italia, cioè se te provi a scaricare le dating app sono tutti strani, cioè mi sembra ad entrare tipo, ma siamo sicuri che questo è un dating app della serie, ok, perfetto, ciao, log out, quindi io non l'ho mai utilizzato i dating app in Italia. Quando sono andata negli Stati Uniti, le mie amiche au pair mi hanno detto guarda che qui non è un tabù, qui lo utilizzano tutti e trovi un sacco di ragazzi belli, interessanti, fidati di noi, scaricati, insomma Tinder, io mi sono scaricata Tinder e Bumble, perfetto. Adesso passiamo quindi, prima di raccontarvi le sue avventure, passiamo alle categorie degli uomini americani, partiamo con i giocatori di football, baseball, basketball, hockey, American football, insomma loro, i giocatori, quelli al college, quelli al liceo, quelli all'università, NFL, l'NFL sarebbe, come si chiama, la nostra serie A di American football, professionisti, quello non ho mai avuto l'occasione di conoscere qualcuno nell'NFL, anche perché a Seattle c'è, ci sono i Seattle Seahawks, se mi pare si dica così, e quindi una volta mi hanno detto le mie amiche au pair che stavano a Seattle, perché io non stavo a Seattle centro, stavo un pochino più lontana, mi hanno detto che avevano fatto il tavolo alla discoteca Seattle centro e io ovviamente quella sera non c'ero, ma quella ovviamente è la spiga della mia vita ovviamente, anzi hanno chiamato anche le mie amiche al prive, hanno detto vieni vieni ti offro un po' di champagne e io ovviamente non c'ero, ma vabbè, ma va bene così, quindi stiamo parlando di tutti i giocatori, di tutti gli sport che ci sono negli Stati Uniti, due, i militari, che è quello con cui sono finita io, i militari, armi, navy, marines, air force, de tutto e de più, navy, seals, militari, tre, campagnoli barra country guys, i campagnoli barra country guys sono quelli, sì, proprio come ve li immaginate, cappellino, scarpette da cowboy, stivaletto da cowboy, jeans, tutto strano, sono loro, sono loro che vivono nella countryside, sono loro, siamo tre, quattro, il palestrato, palestrato e pure loro, vabbè palestrati quelli fissati proprio, e quindi c'hanno anche loro i nerd, insomma quei ragazzi che giocano, fanno che ne so, streaming, giocano sempre xbox, computer, scusate, ogni tanto mi escono le parole all'americana, comunque sono loro, perfetto, ci siamo. Quindi queste sono le categorie di uomini americani, adesso vi dirò anche perché vi ho fatto questa categoria, perché le mie dating, cioè i miei appuntamenti, i miei datings, sono stati tutti con tutti questi ragazzi diversi, perché io, le mie amiche ridendo, scherzando, mi hanno detto tu devi provare ogni tipo di ragazzo americano, cioè devi provare queste tipologie diverse e magari un giorno troverai quello che ti piace. Io ho detto mai, 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 mai avrei pensato che mi sarei sposata, che mi sarei fidanzata con un americano, mai, mai. Anche perché dopo, sinceramente, le appuntamenti che ho avuto, le esperienze che ho avuto con gli americani, ho detto per carità lascia perde. Allora, iniziamo con la prima volta in miscarico, Bumble, Tinder. Scrollo, metto le mie foto, stupenda, fantastica, meravigliosa e ovviamente nella bio, nella biografia metto immediatamente italiana che vive negli Stati Uniti, perché ragazzi questo, questo è quello che attrae, più prima dell'aspetto fisico, voi dite a un americano che sia d'italiane, oh my god, proprio della serie, prendimi sono tua, ok? No, scusa, prendimi sono tuo, perché è loro che sono attratte. Quindi metto nell'avvio Italian living in the US, au pair living in the US, non mi ricordo, 24 years old, perché ero tipo 24, 25 anni. E, ah beh, insomma, voglio conoscere amici, eccetera, eccetera. Perfetto, primissimo appuntamento, primissimo match, giocatore di football. Stupendo, ragazzi, stupendo, fantastico. Voi dovete sapere che io ho un tipo, ok? Se mi conoscete, se mi seguite, lo sapete, io ho il tipo, il tipo mio è biondo, occhi azzurri, più alto di me, se gioca a football, se è militare, se, insomma, quelli che ci piacciono a noi, poliziotto, quelli qua di viso, mwah, ecco, io ho il mio tipo, ed sono loro, sono loro, quindi, scrollo, trovo storico, giocatore di American Football, più piccolo, perché questa è un'altra mia particolarità, prima di sposarmi con Dylan, che è più grande di me di un anno, io ho 30, lui 31, 93, io ho 92, lui, io ho sempre avuto questa passione per i ragazzini più piccoli, non mi chiedete perché, perché non lo so. Ovviamente, più di 18 anni, eh, e più di 21 anni negli Stati Uniti, perché a 21 anni negli Stati Uniti sei ma... no, sei maggiorenne, penso di sì, perché vabbè, puoi bere, puoi fumare a 21 anni, a 18, a 16 puoi prendere la patente. Vabbè, più piccolo di me, faccio questo match, lui è stupendo, stupendo, vabbè, facciamo match, ciao, come stai? Hi, how are you? Good, how are you? E lui, where are you from? Hey, I'm from Italy. E lui, oh my god, you're from Italy? Oh my god, that's amazing, I never met, non ho mai incontrato una ragazza italiana, oh my god, we have to hang out, dobbiamo uscire, we have to meet, blah, 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 vabbè. Ok, usciamo. Primissimo appuntamento con questo ragazzo, mi viene a prendere, mi pare che avesse la Mustang, la macchina, non mi ricordo, la Mustang, possibile, probabilmente. Mi viene a prendere, stupendo, vestito. Allora, l'outfit dell'americano che gioca American Football, American, insomma, Baseball, Basketball, eccetera, eccetera, la maggior parte si vestano tutti uguali, cioè gli americani in generale si vestano tutti uguali. Jeans, Vans, oppure Converse, oppure Nike, Nike come lo dicono loro, felpetta, perché è come se veste mio marito, felpetta, maglietta, maniche corte sotto e cappellino. A maggior parte delle volte si mettono il cappellino, o si lo mettono con la visiera o si lo mettono rigirato. E solitamente quando giocano ad American Football, Baseball, eccetera, eccetera, hanno il cappellino con la loro squadra o con il nome della scuola. Lui si presenta così. Questo era l'outfit. Scarpia ginnastica, jeans, felpetta e cappellino rigirato della high school. Lui bellissimo, biondo occhi azzurri. Lui veniva da, stava giocando lì all'American Football, però si era trasferito, mi sembra, dal Minnesota, ma non mi ricordo. Comunque noi lo chiamiamo col suo nome, lo chiameremo Donatello. Donatello. Donatello mi viene a prendere questa Mustang, mi porta, mi sembra, a mangiare la pizza, se non ho sbaglio, era pizza, mi sembra di sì. Mi porta a mangiare la pizza, in un posto che, per carità, ancora mi ricordo, solo al pensiero mi viene il boom, e pizza, pregente era pongo, pizza di pongo, vabbè, però, vabbè, chiacchieriamo, ovviamente arriva sempre la parte in cui l'americano, e se voi siete ragazzi alla pari, o avete fatto l'exchange studio, o vivete negli Stati Uniti, potete confermarmi questa cosa. Mi guarda? Oh my god, I love your accent. Previamente questo, questo, se non mi fossi sposata, me lo sarei tatuato per quante volte l'ho sentito. Here, proprio qua me lo tatuo, me lo tatuo. Oh my god, I love your accent. Tutte le volte. Oh my god, you're so pretty, I love your accent. Vabbè, finiamo la pizza. Dopo la pizza. Che cosa vuoi fare? Di solito il date con un ragazzo più o meno di 23, 22 anni, insomma, che ha appena compiuto 21, loro hanno già la macchina perché hanno la patente a 16 anni, o andate a cena fuori, o vi andate a bere una cosa, o magari dopo la cena fuori c'è il gelato, c'è il frozen yogurt, o più o meno diciamo come noi, o c'è il cinema, insomma. Vabbè, cosa vuoi fare dopo? Vabbè, andiamoci a prendere un frozen yogurt, va bene, prendiamoci sto frozen yogurt, perfetto. Il date va benissimo, lui carinissimo, non ci siamo baciati, non ci siamo baciati quella sera, io, ha visto che gentleman, non mi ha baciata, io tutta felice, avevo scritto anche le mie amiche opere, ragazzi è andata benissimo, perché ero super emozionata, ragazzi è andata benissimo, non mi ha nemmeno baciata, wow, wow, that's a great guy, wow, wow. Il giorno dopo mi scrive, allora come va, come non va? Io tutto bene, tu come stai? Bene, bene. Mi fa, senti, mi sembra la sera stessa o il giorno dopo, mi fa, ho una partita importante di American Football, ti va di venirmi a vedere? E che me lo chiede, ma che me lo stai pure a chiedere? Ma certo che vengo, ma stai scherzando? Io emozionatissima. Scrivo alle mie amiche opere, ragazze, mi ha chiesto di andarlo a vedere la partita, dovete per forza venire con me e tutte quante erano, avevano già altri impegni, per fortuna la mia amica messicana, che poi è la ragazza con cui ho stretto più di tutte, mi fa, vengo io. Momento dell'outfit, ancora me lo ricordo, non sapevo assolutamente cosa mettermi, poi ho pensato, vabbè, ma questi vanno alle partite, ovviamente col pigiama e con le coperte, perché poi era pure inverno, ho detto, sai che ti dico, ci vado pure io col pigiama, no, col pigiama no, però insomma ho messo una cosa così molto casual e ovviamente nel tragitto casa, stadio di American Football, ragazzi, mi è partito proprio, ragazzi, ragazze, perché non so se guarderanno anche gli uomini, mi è partita quella cosa, Ilaria arriva, cioè vi sento Cinderella Story, Ilaria arriva, lui sta giocando a football, lui guarda Ilaria, Ilaria guarda lui, bravo, tipo ecco, cheerleader mancata e praticamente mi sono immaginata che io ero quella cheerleader bellissima, stupenda, fantastica, che fa il cheer per lui, poi lui alla fine partita, tutto sudato, si leva l'elmo, corre da me e mi pazza, questo è stato praticamente il mio filmino mentale dal tragitto casa stadio, tutta emozionata, perché poi se voi siete mie amiche, sapete io che problemi mentali che ho, nel senso che io sono completamente pazza, comincio a fare, per niente non mi fermo più, se già parlo così, normale, quando sono emozionata sono proprio completamente folle, quindi mi aspettavo, sapete sai, la scena da Cinderella Story, col mio Chad Michael Murray, beh, arrivo, lo vedo, lo vedo, da lontano, mazza che bello, stupendo, fantastico, e faccio, vabbè, tanto, lui sta giocando, se forse si stava riscaldando, non era ancora iniziata la partita, vabbè, tanto non mi vede, figuratevi, poi vabbè, poi lo saluto dopo, tanto mi godo la partita e dico, guardo, quello è il mio futuro fidanzato, perché poi io già mi faccio i filmini, quando conosco qualcuno per me è già il mio futuro fidanzato, siamo perfetti insieme, perfetto. lo guardo, c'è la partita, lui non mi aveva vista, perché non mi aveva vista, perché c'era un sacco di persone, ragazze, metà partita, perché c'è una specie di stop, una pausa, tra le cheerleader, vedo una bionda, occhi azzurri, stupenda, fantastica, proprio la tipica biondona stupenda americana, lui si lava l'elmo, va a bere l'acqua, perché c'hanno le panchine, e si bacia con lei. Io completamente, ragazza, cioè mi è cascato completamente il mondo addosso, dico la mia amica, hai visto quello che ho visto anch'io? e lei mi fa sì, mi sa che è fidanzato, mi sa che è fidanzato, mi sa che quella è la fidanzata ed è davvero una cheerleader, praticamente il mio sogno, il mio filmino mentale si era realizzato, però praticamente lei era un'altra, quindi vabbè, ti faccio senti, vabbè, ce ne andiamo, perché non mi sembra proprio il caso, quindi ci siamo stati e ce ne siamo andate, e il giorno dopo, no anzi scusatemi, mentre ero in macchina con lei, gli ho scritto, gli ho detto scusami ma sei fidanzato? E lui mi ha gostata, bloccata da tutti i social, sì, sì, questa è stata la mia primissima esperienza dating negli Stati Uniti, questo era l'American Football, il giocatore di American Football, ci sono rimasta veramente di cacca, perché mi piaceva davvero, vabbè, ma a me, quando mi piacciono, a me mi piacciono tutti, io mi faccio già subito filmini mentali con tutti, quindi vabbè, niente di nuovo, questa sono io, perfetto, primissimo date andato, io ovviamente dico, ma che faccio, voglio continuare a usare Tinder, Bumble, che poi Bumble praticamente, al contrario di Tinder, dovete scrivere voi all'uomo, quindi non è l'uomo che vi scrive, quindi alla fine ci avete un pochino più voi, se potete decidere cosa fare, cosa non fare, dico, boh, continuo, vabbè, continuo e te devo dire, match, secondo match, arriva, lui vi ho posto di il nome, tanto penso non lo sentirò mai più, non lo vedrò mai più, perché quel ragazzo aveva tantissimi problemi, non aveva manco i social, a parte manco capisco in italiano, arriva il match con Nate, Nate è un ragazzo della army, quindi un militare, un militare, ovviamente tutti questi date sono stati prima di Dylan, lo sottolineiamo questa cosa, vorrei che fraintendete, faccio il match con Nate, lui piccoletto, lui mi sa che aveva proprio 21 anni, sempre quelli piccoli, io sempre piccoli, che vedevo dire, e vabbè, cominciamo a parlare, ovviamente c'è sempre la frase dove sei, oh my god, you're italian, I love your accent, I can't wait to meet you, vabbè, parliamo, parliamo per un paio di giorni, e lui una sera mi fa, senti, io vivo con un mio, con un roommate, con un altro ragazzo, ti va di venire a vederti un film, mangiamo una pizza, ci vediamo un film a casa mia, è il primo date, a casa tua, film, mi faccio, ma non lo so, guarda, poi comunque siamo negli Stati Uniti, non lo sai mai, non lo sai mai, questi hanno pure le armi, capito, non lo so, guarda che io sto nei militari, diciamo quando i ragazzi stanno nei militari, non vi dico che, aspettate, no, non è vero che non è pericoloso, è lo stesso pericoloso, però se succede qualcosa quelli sono schedati, i militari sono schedati, ok, dal governo americano, quindi succede qualcosa, li beccano, vuoi o non vuoi, dico, boh, mi fa, guarda, c'è anche il mio roommate, io dico, mamma, ce l'avrà davvero questo, sto in roommate, boh, chi lo sa, dico, vabbè, dai, mi fido, mi fido, vado, messaggio a tutte le mie amiche opere, ragazze, vi mando la posizione, se succede qualcosa, sapete dove sto, sto a casa di questo, venite marracata, ho chiamata la polizia, non lo so, perfetto, vado a casa di questo ragazzo, e c'era davvero il roommate, e io, mamma mia, meno male che c'è, c'è il roommate, c'è davvero, io e lui, vabbè, stavamo sul divano, stavamo cominciando a vedere il film, e il roommate mi fa, hi, nice to meet you, my name is, non mi ricordo un mese chiama, e io, hi, nice to meet you, my name is Ilaria, mi guarda, dico, Dio, perché questo mi guarda così, e mi fa, no, scusate, fa lui, fa Nate, ma sei sicuro che è italiana, gliel'hai chiesto l'idea, dall'accento sembra russa, lo sai che noi non andiamo d'accordo con i russi, russa, no, no, mi faccio, no, no, I'm from Italy, what are you talking e va, ragazzi, questo è tutto vero, non mi sto a metà niente, gli fa l'amico, gli fa Nate, Nate, did you check her ID, gliel'hai controllato il passaporto l'ID, perché io vorrei che questa è russa, è una spia, mi fa, ma su Dio santo, ma questi pensano che sono una spia, ma questi mi ammazzano, tirano un fucile, mi ammazzano, ma raga, vi giuro ho perso vent'anni, io ci penso, dico, Dio, me lo so portato, Dio, del passaporto, sì, me lo so portato, perché stavo guidando la macchina, quindi me lo so portato, perché stavo con la mia macchina, faccio, no, 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 I have my passport, I'm Italian, I'm Italian, I have my passport, e faccio vedere il passaporto, ah, ok, yeah, yeah, she's Italian, she's Italian, io così, tipo, ma come ho l'accento russo, ragazzi, mi è successo, mi è successo che qualcuno mi ha detto appunto che il mio accento sembrava o spagnolo, o italiano, o russo, mi è successo che mi hanno detto che sembrava l'accento russo, ma ho perso vent'anni di vita, ho detto, questi, questi mi ammazzano, questi mi ammazzano, pensano che sono spio, quindi vabbè, dopo il primissimo, insomma, questa prima impressione che per carità volevo scappà, mi fa, ah, ti faccio vedere un film super American, super americano, Wedding Crushes, quel film che loro due con Owen, come si chiama quello, oddio, non mi ricordo mai il nome, quello che c'ha il nasone biondo, non mi ricordo, e che insomma vanno ai matrimoni, fanno finta, si imbucano ai matrimoni praticamente, non l'avevo mai visto, ah, caruzzo, simpatico, mangiamo la pizza, il date va bene, non succede nulla, perché vabbè, sai, c'è stato un roommate, lui non manco mai bacio, infatti ho detto, ma gli americani non ti baciano, manco al primo appuntamento, caruzzi, ma dai, sono rispettosi, usciamo per qualche altro giorno, non so se c'è stato qualche date, non so se c'è una cena fuori o qualcosa del genere, mi costa, ovviamente mi costa, mi fa, guarda, io sei molto bella, mi piace tantissimo, raga, però questo ragazzo c'aveva tanti problemi, io me lo ricordo come se fosse ieri, fumava sigarette, perché vabbè, nei militari non puoi fumare nient'altro, fumava sigarette e beveva tantissimo, io credo che questo ragazzo avesse dei problemi di depressione, voi dovete pensare che comunque, quando i ragazzi negli Stati Uniti, quando i ragazzi si arruolano, ci sono tre ragioni, uno, hanno qualcuno nella famiglia che è arruolato e quindi seguono le orme dei genitori, dei nonni, eccetera, eccetera, due, sono dei ragazzi che sono davvero proud to be American e sono contenti e felici di servire il loro paese, tre, come per esempio mio marito, sono dei ragazzi che hanno avuto un'infanzia molto molto difficile, vengono da cittadine disperse nel nulla negli Stati Uniti, nel centro degli Stati Uniti, come mio marito viene da una cittadina di 2000 abitanti in Indiana, dove praticamente l'unica cosa che fanno è si drogano, si ubriacano e fumano o usano droghe, purtroppo la realtà delle piccole cittadine negli Stati Uniti, ma come nelle piccole cittadine in Italia, sono queste cittadine completamente dimenticate da tutti, anche perché negli Stati Uniti loro parlano solo ed esclusivamente di East e West, cioè la parte Est e la parte Ovest, la parte centrale degli Stati Uniti completamente dimenticata e soprattutto se sono cittadine molto piccole, questi ragazzi non hanno nulla da fare, li girano tantissime droghe, tantissimo alcol, comunque loro dovrebbero cominciare a bere a 21 anni, ma non cominciano mai a 21 anni, cominciano sempre molto prima, perché se le fanno comprare dai maggiorenni e poi insomma festini, cose, insomma quello che vedete nei film, diciamo che gli americani proprio il loro teenager time, cioè quel periodo che va insomma a 12, 13, no va a 12, forse 14 dai, poi 21 eccetera eccetera, loro proprio subriagano, pubriagasse proprio, cioè proprio alcol, droghe pesanti, insomma non è purtroppo una rarità negli Stati Uniti. Questo ragazzo purtroppo, quindi vabbè, per dirvi che si arruolano per scappare da queste realtà, si arruolano perché li aiuta per esempio a Dylan a arruolarsi, poi vi farò un episodio riguardo questa cosa e Dylan l'ha aiutato tantissimo a arruolarsi, l'ha completamente salvato perché Dylan purtroppo non stava in buoni giri quando viveva nella sua cittadina, poi si è arruolato e adesso non lo direste mai, cioè Dylan è il ragazzo più bravo, non beve, non fuma, non fa niente ragazzi, cioè Dylan non lo direste mai che ha avuto quel tipo di infanzia. Comunque diciamo ci sono anche questi ragazzi così che si arruolano per questi motivi e questo ragazzo mi ricordo che beveva e fumava tantissimo e si vedeva che comunque soffriva di depressione e infatti quella sera mi scrisse guarda tu sei bellissima, sei una bravissima ragazza però io adesso non ho la testa per una relazione della serie poi, ma chi è questa relazione seria? Cioè io un anno e torno in Italia cioè fondamentalmente perché io non avevo proprio intenzione di avere nella relazione a distanza né avere ragazzo americano, no, no. Quindi vabbè niente praticamente finisce così e mi costa, però mi costa in una maniera un pochino più carina dell'altro insomma dai su questo bisogna dirlo, è stato molto molto più caruccio. Quindi dopo Nate dico rinuncio, la smetto, continuo, che faccio con ste dating apps? Vabbè dai un'altra volta che succede? Dai un'ultima volta poi se proprio va male basta. Anche perché poi dovete pensare che io mio marito l'ho conosciuto uscendo quindi andando in un locale quindi non c'era dating app o cose. Dico vabbè dai, l'ultima volta, l'ultima volta. Matcho con il ragazzo country, con il famosissimo ragazzo cowboy. Ragazzi dai le foto, voi lo vedete che tipo di uomo state per incontrare? Perché dalle foto e dalle bio, dalle biografie lo vedete che tipo di americano è. Se sono american football hanno solo foto di american football. Se sono militari, hanno la foto in divisa perché loro lo sanno, loro sanno come attirare l'attenzione, lo sanno che a noi donne piace l'uniforme, lo sanno che ci piace il giocatore, lo sanno che ci piace, siamo intrigate dal cowboy. Ovviamente lui aveva tutte foto col cappellino, i cavalli, foto dentro al trattore, bio, I'm a country guy, I'm from Texas, but now I'm living in Washington state. Quindi immagina, lo sapete, lo sapete chi state per incontrare. Dico beh, questo ragazzo è bello, era bello, 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 ancora mi ricordo, sono rimasta con biondissimo, occhi azzurri, bellissimo ragazzi, proprio il tipico americano che piace a me. Dico, vabbè, dai, usciamoci. Dico, perché no? Mi fa, vabbè, parliamo, ok, allora ti vengo a prendere, tutt'notte, 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 ti vengo a prendere, ci vediamo a quest'ora, ti porto in un posto carino, elegante. Dico, wow, il country guy che mi porta nel posto elegante. Allora mi dicevo, stia elegante. Perché ancora non sapevo qual è la concezione degli americani di eleganza e quali sono i ristoranti fancy, quindi nella mia testa lui mi stava portando nel posto elegante, nel posto frigo. Mi vesto tutta carina, bellissima, mi ero messa, mi sembra un jeans con una camicetta bianca, il sacchetto, mi ero messa la Gucci, insomma, bello vestita caruccia. Mi portano il posto fancy, mi devo vestire carina. Sto in cameretta mia, a un certo punto sento il rumore che entra nel vialetto della casa dei miei house parents, sento proprio, sapete quei trattori? Proprio i camion che fanno... Dico, Dio mio, ma faccio e vedo una macchina che non era una macchina, quella era l'incrocio tra un camion, un truck e una macchina. Era alto, non so quanto, un verdogno. Cioè, avete presente quando nei film country vedete ste campagne, vedete sti trattori o ste macchine che loro li chiamano truck, con tutto sto colore arrugginito, per esempio, sono verdi, ma verdi non so perché tanto sono tutte arrugginite. e il suo era un blu che non era più blu perché era praticamente mezzo blu e mezzo arrugginito e era più alto di praticamente casa mia a Roma. Ho detto, mamma mia, ho detto, ma voglio davvero andare. Ho detto, vabbè, ormai sta qua, devo andare. Mi fa, guarda, sto qua, arrivo, arrivo e esco, esco. scende dalla macchina. Lui carinissimo, si scende per aprirmi la portiera, scende dalla macchina. Ragazze, non me lo scorderò mai. Ragazzi, ragazze, continuo a dire ragazze, non me lo scorderò mai. L'outfit. Jeans. Rigorosamente, stivale da cowboy, quello marroncino, un po' sbiadito, con la punta. Quello da cowboy. Cintona, quella proprio, sapete, quelli proprio dei film, cintona col coso d'argento che c'era, mi sembra, un cavallo sopra, un cavallo dal galoppo, non lo so che stava a fare sto cavallo, nella cinta, nella, come si chiama? Nella parte dove, la cinta, no? Non mi viene. E camicia a quadri, mi sembra rossa, una cosa rossa e bianca, una cosa del genere, cappello da cowboy. Gli mancava solo la spiga di grano tra i denti e proprio stavamo nel, nel, nel film country proprio, il far west. Mi fa, che bella, io così, ma va bene il mio outfit, perché ho detto, guarda, nel posto, nel posto fancy, ma pure lui si vestirà fancy. Ho detto, ma va bene il mio outfit, no? Perché non è che sono un po' too much. Mi fa, no, 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 stai benissimo, stai bellissima, stupenda, fantastica. Ho detto, va bene. Mi fa, ah, senti, puoi una mano per salire sul track? Ragazzi, ricordatevi che il track era così. Faccio, no, no, ce la faccio, ce la faccio. Io in quel momento mi sarei voluta sdoppiare, proprio per mettermi dietro a me stessa, e vedere sto culone che cerca di salire su questo track. Io non me lo scorderò mai questa cosa. Mi sono aggrappata, c'è tipo una maniglia quando salite su questi track così alti. C'è una maniglia e dovrebbe esserci un'altra maniglia. Siccome però questo track era molto vecchio, io mi sono aggrappata la maniglia e mi sono aggrappata la portiera. Quindi praticamente mi sono alzata, non so come, con tutto il peso, ho messo col tacco, soprattutto sottolineo col tacco. Metto sto tacco dentro al sedile, l'altro stava sotto e lui, ma sei sicura che non hai bisogno? Io, no, ce la faccio. Io proprio stavo morendo in quel momento, fiatone, non mi sentivo più niente, le gambe, i bracci al sedere, tutto. Dopo tre minuti riesco a salire su questo track completamente morta, non avevo più fiato. Mi fa, è ok, io, yes, perfect. Ragazzi, è stato un trauma salire su quel track, poi col tacco. No, 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 proprio non è per me. Vabbè, mi porta ad un oyster restaurant. L'Oyster Club, oyster restaurant, negli Stati Uniti sono, diciamo, vengono visti come dei ristoranti fancy, dove mangiate praticamente le ostriche. Che io, sottolineo, odio le ostriche. Le mangio, ma non ci trovo niente di, sinceramente, così eccezionale nelle ostriche. Lui è molto carino, insomma, ordina per me, ma allora vuoi bere? Lui aveva poi, mi sembra, no, lui mi sembra 22 o 23, non mi ricordo. Ma vuoi bere? Io non bevo, sono astemia. Gli faccio come, guarda, io bevo una cosa così. E lui mi fa, vabbè, ok, io allora bevo soltanto un bicchiere di champagne, che poi loro chiamano il prosecco champagne, che non è champagne, ma è prosecco. Champagne, ostriche, lui mi fa, ti piacciono le ostriche? Sì, buonissime, ne avrò mangiata una, mi stava sentin' male. Vabbè. Serata molto carina, devo dire, lui molto gentile, veramente bellissimi modi. Di solito queste persone, quando vengono dal countryside, sono, insomma, delle persone anche molto religiose. Io comunque sono una persona credente, quindi mi è piaciuto anche il fatto che lui fosse credente, che andava tutte le domeniche in chiesa. Insomma, un ragazzo berbeno, un ragazzo bravo, bello, bello. La cena va benissimo, dopo la cena mi fa, senti, ti voglio portare in un posto. Io faccio, diciamo che mi ero fidata subito di questo ragazzo, si vedeva che era un bravissimo ragazzo. Io comunque mi andavo sempre alla posizione ai miei host parents, la mia host mom, e gli dicevo, senti, se succede qualcosa e non vedi che torno. Mi fa, ti voglio portare in un posto. Io, calcolate che vivevo, sempre vi ripeto, nello stato di Washington, ma non vivevo proprio a Seattle, la città. Io vivevo un pochino fuori, quindi vivevo. Lo stato di Washington è praticamente dove hanno girato Twilight, Fifty Shades of Grey, soprattutto in Twilight, vedete proprio com'è fatto lo stato di Washington. Ci sono tantissimi boschi, tantissimi laghi, è tutta natura, molto molto bello come è stato. Se vi piace, per esempio, fare hiking, andare per le passeggiate, boschi, paesaggi, è molto molto bello. Mi fa, ti voglio portare in un posto speciale. Mi porta in un lago, che c'era la luna, c'erano le stelle, perché comunque non c'era luce, molto molto bello. Mi porta in questo lago e mi fa, mi fa, aspetta, apro la parte dietro del trunk, del, come si chiama, del, la parte dietro del track. Prende una coperta e fa partire la musica country. Raga, bellissimo. Vi giuro, sembrava di stare in un film. Tutti questi date, mi sembrava di stare in un film americano. Parte la canzone country, che poi, all'inizio, io in Italia, mai sentito, mai ascoltato musica country. Adesso che sono qui, io adoro la musica country. Veramente, se vi capita, ascoltatela, perché è veramente, veramente bella. Uno si aspetta che so le canzoni quelle... No, raga, è bella, vi giuro, è molto romantica, molto bella, molto atmosfera. Fa partire la musica country, prende la coperta e mi fa... Oh, I got you a blanket e mi copre con la coperta, raga, è romanticissimo, lui è carinissimo. E... Ebbè, mi fa... You're so beautiful. Comincia subito il momento romantico. You're so beautiful. You're so pretty. Bah, bah, bah. Sei bellissima, sei stupenda. I love your accent, perché quello c'è sempre. E vi ho detto che mi ha tanto mutato ero in faccia. I love your accent. E mi fa... Senti, ti posso baciare? Un po' mi fa... Senti, ti posso baciare? E io faccio... Beh, perché no? Finalmente uno che mi bacia al primo appuntamento. E ci baciamo. Ci baciamo. E adesso arriva il motivo per cui io ho dovuto costare lui. Avete presente quando baciate qualcuno? Per me il bacio è la primissima cosa. Cioè, dopo il feeling c'è il bacio. Se il bacio non va bene... A me me calate. Non ci posso fare nulla. Non è colpa mia. Non ci posso fare niente. A me se il bacio non va, se non c'è il feeling nel bacio... Non riesco. Avete presente quando baciate quella persona? E praticamente mette tutta la lingua. E tipo, non state baciando. State praticamente... E tu stai così, tipo... Ma quando finisce? Aiuto! Ragazzi, è stato così. È stato quel tipo di bacio. Molto bagnato. Ci sono rimasta malissimo. Perché lui era proprio carino. Mi piaceva un sacco, raga. Però... No. Non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta. Dopo un po'... Mi fa... Poi lui è romanticissimo. Era pure anche un pochino troppo sdolcinato, forse. Mi diceva sempre ogni secondo di sei bellissima, sei stupenda, sei fantastica. Love your accent. Ma sto bacio proprio, raga, no. No, ragazze, no. Proprio... E tu così. Ti è piaciuto? Sì. Mi fanno il bacio più bello della mia vita. Ragazze... Dopo qualche... Ho provato a riuscirci la seconda volta. Eri successo con sto bacio. Sono sincera, non sono riuscita nemmeno ad andarci a letto. Perché mi sembrava anche lui molto preso. Devo dirvi che era molto molto preso. E non volevo... Insomma... Rompergli il cuoricino. Quindi io ho detto, guarda, sei molto carino, però per adesso io non voglio relazioni serie. Raga, ho dovuto utilizzare quella carta. Perché non che gli dicevo. No, quando baci mi sembri SpongeBob. Cioè... SpongeBob perché è bagnato SpongeBob. Non mi chiedete perché ho fatto quel... Quello legamento. Che gli dicevo, baci che non te si può avere quando baci. No, non potevo. Quindi io ho detto, guarda, per adesso non sono interessata a relazioni serie. E niente ragazze. Quindi purtroppo è stato costato. Ma era veramente, veramente un ragazzo molto carino, molto intelligente. Molto dolce, romantico. Però non è andata. E niente. Queste sono, diciamo, le mie... Le mie... I miei dates. Che sono andati veramente male. Poi c'hanno avuto qualcun altro. E poi vabbè, ho incontrato Dylan. E poi il mio mondo è completamente... Perza completamente per Dylan. Ma quella è un'altra storia che vi racconterò molto presto. E niente ragazzi. Adesso ho detto ragazze e non ho più detto ragazze. Vi lascio nella bio i miei canali social. TikTok, Instagram. Mi trovate sempre come Yaya Rondi. Io spero che questo primo episodio vi sia piaciuto. Ci ho pensato tanto. Su cosa parlo. Di cosa parlo. E mi è sembrato che questo fosse proprio il primissimo episodio per rilanciare la bomba. Di parlare di qualcosa di divertente. E di fare un punto questa comparazione tra uomo italiano e uomo americano. Io vi saluto. E spero di vedervi nel secondo episodio. Ovviamente ho letto, sto leggendo tutti i vostri pareri. Consigli su che argomenti trattare. Mi avete scritto tantissimi consigli. Se volete continuare a scrivermi, scrivetemi su Instagram. Nei messaggi privati. Piano piano vi leggo tutti. E niente. Grazie mille per aver guardato il mio episodio. E ci vediamo nel prossimo episodio di Keeping Up with Yaya Rondi. Ciao! Ciao!